Musica Ieri sera al Teatro Camploi si è aperto ufficialmente l'Ottobre Missionario, un tempo forte dedicato alla missione universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio. Tema di quest'anno, andate e invitate al banchetto tutti. Questa mattina in Gran Guardia si è tenuto il convegno dell'amministrazione comunale per presentare alla cittadinanza l'area di Forte di Santa Caterina, la zona interessata da un importante progetto per restituire questo spazio alla città. Il coraggio di fare la pace, questo è il titolo del 27esimo congresso provinciale delle ACLI di Verona, che è ospitato nel Teatro Fonderia Aperta, ha articolato riflessioni su democrazia, comunità, partecipazione, lavoro. Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telepace. Come sempre l'apriamo con l'attività del Papa, che ha presieduto questa mattina in una gremita piazza San Pietro la solenne Santa Messa per l'apertura della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Sinodalità. Apertasi oggi, questa assemblea importante si chiuderà il prossimo 27 ottobre. Saranno questi, ha detto il Papa, giorni per ascoltarci. Badiamo, ha detto, a non trasformare i nostri contributi in puntigli da difendere o agende da imporre, ma offriamoli come doni da condividere, pronti anche a sacrificare ciò che è particolare, se ciò può servire a far nascere insieme qualcosa di nuovo secondo il progetto di Dio. Al termine della Messa, poi, Papa Francesco ha annunciato una giornata di preghiere di digiuno per la pace nel mondo il prossimo 7 ottobre, primo anniversario dell'attacco terroristico perpetrato da Hamas in Israele, che ha fatto esplodere la brutalità a cui da un anno si assiste in Terra Santa. Ed ora proseguiamo parlando della diretta di Telepace di ieri sera al Teatro Camploi, una tradizione, l'apertura ufficiale dell'ottobre missionario, un tempo forte, diciamo così, dedicato alla missione universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio. Tema di quest'anno, andate e invitate al banchetto tutti. Una tradizione, un'occasione, un momento forte di Chiesa. Ieri sera al Teatro Camploi si è aperto il mese dedicato alla riflessione sulla Missio Ad Gentes, la missione, vocazione di ogni cristiano in quanto battezzato. La serata organizzata dal Centro Missionario Diocesano, assieme a Missio e a Luci nel mondo Onlus, ha lanciato vari messaggi a partire dalla parabola di Gesù del banchetto annunziale del Re e dal motto di Papa Francesco, andate e invitate al banchetto tutti. Io mi rifaccio velocemente al messaggio del Papa, che ha tre parole chiave per introdurci in questo mese missionario. Andate barra invitate al banchetto tutti. Andate e invitate, che è un atteggiamento che non viene facile né scontato, perché significa disinstallarci dalla nostra condizione abituale e provare ad andare incontro. Siamo portati a stare in attesa e invece la missione è ciò che ci costringe a venire fuori dalla nostra solitudine un po' selvatica e a cercare gli altri. Questo atteggiamento, secondo me, nella Chiesa di Verona è stato coltivato a lungo da tante persone, ma c'è bisogno di continuare a coltivarlo, soprattutto tra le giovani generazioni. Al banchetto, la prima idea che ci viene in mente del banchetto è quello materiale, che fa riferimento un po' al nostro mondo consumista, ma il banchetto a cui fa riferimento Gesù nella nota parabola è un altro banchetto. È un banchetto, direi, molto più profondo, molto più lungo nel tempo e ha a che fare con la stessa possibilità dell'umanità di ritrovarsi insieme. È il sogno dell'umanità di poter vivere insieme, finalmente, in una condizione di pace. E Dio solo sa quanto in questo tempo tragico, queste ore tragiche, c'è bisogno di continuare a coltivare questo sogno. E poi tutti, tutti, nessuno escluso. Come ha detto in maniera molto perentoria Papa Francesco lo scorso anno a Lisbona, todos, todos, todos. E ricordo che sul sito della Fondazione Missio, missioitalia.it, si possono trovare video e riflessioni per utilizzare in questo mese. Ricordo inoltre che la giornata missionaria mondiale sarà celebrata il prossimo 20 ottobre. Giorno di lutto cittadino a Vago di Lavagno per il funerale di Alessandra Spiazzi e Andrea Feltre, madre e figlio, morti lo scorso 20 settembre. Nell'omelia pronunciata da Don Cristian Tosi in una chiesa gremita, parole molto toccanti, soprattutto nella chiusura. Molti, ha detto, uscendo dalla chiesa quest'oggi potrebbero non saper bene che cosa udire o in quale modo dare testimonianza. Va bene un sorriso affabile, delicatezza nei gesti, un fecondo silenzio e intensa preghiera. Teniamo in tasca la luce di Cristo, il profumo della resurrezione parlerà per noi. Proseguiamo questa mattina in Gran Guardia. Si è tenuto il convegno dell'amministrazione comunale per presentare a tutta la città l'area di Forte Santa Caterina, la zona interessata da un importante progetto per restituire questo spazio alla città. Un luogo aperto alla cittadinanza, inclusivo e soprattutto innovativo nella gestione e nelle proposte. Tutto questo e molto altro ancora, spazio forte, il progetto presentato questa mattina in Gran Guardia che riguarda l'area della Forte Santa Caterina, 200 metri cubi di verde nella zona sud di Verona, compresa tra i quartieri di Borgo Roma e Porto San Pancrazio e che dista dal centro cittadino circa due chilometri. L'invito dell'amministrazione comunale è quello di progettare insieme per creare un'alleanza tra pubblico e privato nella gestione di questo spazio. Fin dalle prime fasi si è voluto coinvolgere le associazioni, le energie del territorio per riqualificare un'area che assume anche un contorno speciale in questo periodo visto che stiamo parlando di un forte, di una costruzione che è nata in un periodo di guerra dove bisognava difendere la città e dove oggi c'è anche questa rigenerazione di senso che secondo me ha un gran valore da non sottovalutare e quindi mi auguro che ci siano appunto tante energie che si concentrano e convergano su quest'area di Verona che potrà essere un futuro davvero bellissimo per la nostra città. Al convegno in Gran Guardia erano presenti esperti in tema di rigenerazione urbana, economia sociale e sostenibilità. Gli interventi previsti prevenono da un lato il restauro di una parte della Forte Santa Caterina, dall'altro la demolizione degli uffici delle ex caserme ed inoltre la costruzione di sei edifici e la sistemazione dell'area verde. Abbiamo voluto istituire l'assessorato del terzo settore che ha proprio questo approccio anche nella nuova regolamentazione degli enti del terzo settore. C'è questa fase della coprogrammazione che spesso la politica o le istituzioni che hanno poi il dovere, l'obbligo della decisione non riescono a fare, non sono riusciti a fare negli anni o si fa ovviamente alla meglio quando si ha l'opportunità. Impostare tutte le scelte, soprattutto degli interventi così impattanti per la città nella condivisione, nel coinvolgimento, anche nel scoprire risorse, idee e energie è funzionale e poi anche a reale utilizzo perché poi rischio di costruire cattedrale nel deserto sempre dietro l'angolo. Quindi credo che partire da cosa fare, con chi farlo, poi aiuta anche a come farlo. Proseguiamo con il coraggio di fare la pace. Questo è il titolo del 27esimo congresso provinciale delle ACLI di Verona che è ospitato nel Teatro Fonderia Aperta, ha articolato riflessioni su temi come democrazia, comunità, partecipazione, lavoro, dignità, spiritualità e futuro. Un congresso che ha portato all'elezione dei delegati per i congressi sia regionale che nazionale. Il servizio di Giacomo Biancardi. Il coraggio di fare la pace è il titolo del 27esimo congresso provinciale di ACLI Verona che in due giorni, ospitati nel Teatro Fonderia Aperta, ha articolato riflessioni sul temi quali democrazia, comunità, partecipazione, lavoro, dignità, spiritualità e futuro. Un congresso che ha portato anche all'elezione dei delegati per i congressi regionale e nazionale. Noi pace ne intendiamo non solo l'assenza di conflitti, ma ne intendiamo azione sociale sul territorio, diminuzione delle disuguaglianze, diminuzione dei vari divari che ci sono, da quello economico a quello culturale a quello sociale. Queste sono le basi dell'attività delle ACLI. Molte le personalità intervenute, cominciando dal Vescovo Pompili, che ad ACLI ha consegnato indicazioni e un compito per il prossimo cammino. Aumentare il capitale sociale, che significa aumentare la possibilità per la gente di vivere non separatamente, ma insieme, promuovendo tutta una serie di iniziative che facciano sentire le persone meno isolate e più in connessione, perché oggi, a fronte alle sfide nuove e talora drammatiche che siamo chiamati ad affrontare, l'individuo da solo è ancora più debole, mentre c'è bisogno di trovare delle forme, e le ACLI in questo sono maestre, per poter coinvolgere in maniera collettiva la società. Il cammino dei prossimi anni di ACLI è quindi avviato. Il futuro è un tema delicato per le ACLI e noi lo affronteremo partendo da tre presupposti. Il primo presupposto è la formazione. La metteremo al centro, la formazione sia del sistema dei servizi, però la formazione dei circoli e dei volontari. Il secondo tema sarà il tema dei circoli, per cui la presenza nel territorio, che andrà ampliata. Il terzo tema diventa quello dei giovani, però non intesi come una riserva da coltivare a cui garantire spazi, eccetera. I giovani vanno coinvolti con la loro modalità, che non è la stessa di noi adulti. Ecco, noi dovremmo toccare i tasti giusti per permettere questa forte partecipazione giovanile. Oggi l'insediamento di Rosaria Amato, il nuovo questore di Verona, che succede a Roberto Massucci, che ha assunto il nuovo incarico di questore di Roma. Congratulazioni e buon inizio di incarico al nuovo questore di Verona. E da ultimo chiudiamo con un appuntamento, o meglio con un corso che prende il via il prossimo 12 ottobre, intitolato Tornerai a consolarmi, un percorso per persone separate, coppie ferite. La zona dove, il luogo dove si svolgerà questo corso è la Casa di Pietro. maggiori dettagli nel servizio. Uno strumento, un'occasione, il corso che dal prossimo 12 ottobre prende avvio alla Casa di Pietro. Titolo Tornerai a consolarmi. Si tratta di un percorso per persone separate e coppie ferite per vivere, alla luce dello spirito, il proprio cammino. È un percorso di otto incontri in piccolo gruppo, rivolto a persone separate, divorziato, nuova unione. Gli scopi sono, diciamo, i principali sono un paio. Il primo è di permettere alle persone che portano con sé una storia e un senso magari un po' ferito, una storia d'amore, a volte con un senso proprio un po' di morte, di fare una rilettura alla luce dello spirito, anche con qualche strumento di tipo psicologico, di quella che è stata la propria storia, per rimettersi nuovamente in una dimensione di speranza e di salvezza. E quindi questa è la prima. Poi, non da poco, è anche l'occasione per loro di poter sperimentare una dimensione di chiesa accogliente che spesso le persone non hanno percepito come tale, magari per precomprensioni loro, ma magari anche per esperienze effettivamente un po' escludenti nel tempo. E quindi di questo di solito sono particolarmente grate. E quindi questi sono i due obiettivi principali. Un'iniziativa che tratta un tema tanto umano che ha però un supporto biblico. Un supporto biblico che è dato da una figura quest'anno, quella di Mosè, perché Mosè è una vita, è un'intera vita. Ognuno di noi si porta a spasso una vita e deve compiere una vita. Questa vita attraversa le sue chiamate, le sue traversie, i suoi desideri, ha un progetto originale dentro di sé che dobbiamo scoprire, che purtroppo poche volte noi insegniamo alle persone a scoprire. Li mandiamo a caccia dei peccatucci negli angoli delle marmellate rubate, per dirla con un linguaggio infantile, e non li mandiamo a caccia della vera progettualità di vita che hanno dentro e che possono condividere con Dio e con gli altri. In questo corso, che tratta temi molto umani, c'è anche tutta la parte della legge, del Tribunale Ecclesiastico. Che valore ha inserire questo aspetto? Aver inserito il Tribunale Ecclesiastico in questa realtà molto bella ha sviluppato una sorta di desiderio di tante persone che stanno vivendo magari in una situazione matrimoniale difficile, o ferita, o compromessa, di venire a chiedere una valutazione della loro situazione attuale, chiedendo cosa è possibile fare, se c'è possibile una riconciliazione, se è possibile un accompagnamento personale di uno o dell'altra, se è possibile introdurre un procedimento di nullità matrimoniale o altro. Quindi diciamo che abbiamo messo in rette diverse competenze. Il Tribunale si inserisce semplicemente cercando di accompagnare, di ascoltare queste situazioni che vengono a chiederci di avere un discernimento sulla loro situazione. Ricordo che gli incontri si terranno alla Casa di Pietro, in piazzetta San Pietro in Carnario, in centro a Verona, il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30. È tutto per il nostro Tg, grazie per averci seguito, arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.